Stavamo percorrendo questa pista sulla costa atlantica della Patagonia e ci siamo accorti che si è rotto uno dei supporti della marmitta. Il primo paese è abbastanza distante da qui, quindi vogliamo fare una riparazione temporanea. Venite con noi e farremo vedere come fare una saldatura d'emergenza in modo tale da evitare che il danno si aggravi lungo la strada. Per evitare di sporcarmi come al solito indosso una tuta da lavoro. Ok, così è molto meglio. Ecco il nostro danno. Ora abbiamo questo supporto che dobbiamo rinforzare con una piccola saldatura per evitare che si rompa definitivamente. Per fare la nostra riparazione creeremo una vera e propria saldatrice da campo. Utilizzeremo dei cavi per l'avviamento d'emergenza, che dovrete sempre avere con voi in viaggio, la maschera da saldatore, gli elettrodi, in questo caso da 2,5 mm, perché utilizzeremo una batteria d'avviamento a 12 volt. Dovendo saldare dei materiali più spessi si possono usare 3,5 mm usando due batterie d'avviamento in serie. Vi ricordo che questo video è in collaborazione con il sito Manomano.it. Si tratta di un portale con oltre 300.000 referenze, tutte dedicate al fai-da-te e al giardinaggio. Per noi è diventato un vero e proprio riferimento perché tramite questo portale abbiamo potuto trovare molti materiali che ci sono stati utili durante questo viaggio. Troverete tutti i link nella descrizione di questo video. Ok, iniziamo il lavoro collegando il polo negativo e il polo positivo della nostra batteria. Verifichiamo col multimetro la tensione iniziale della nostra batteria, in modo tale da controllare durante la saldatura che non si scarichi troppo e ci crei problemi dopo quando dovremo ripartire con la macchina. Prestando attenzione a non creare cortocircuiti, ci distanziamo un pochino dalla batteria in modo tale da evitare che quando saldiamo le scintille vadano a toccarla. Mentre facciamo la saldatura e facciamo riposare la batteria, controlliamo il voltaggio per verificare la batteria. Dobbiamo imparare che non scenda mai sotto i 12 volt. Funziona come una saldatrice, la corrente viene data tutta molto velocemente, quindi l'elettrodo si potrebbe sciogliere. Dobbiamo procedere molto lentamente. Si tratta di una saldatura d'emergenza ben riuscita che ci salverà sicuramente da qui fino al paese. Dopodiché cercheremo di sistemare il problema in modo più definitivo. Abbiamo visto come pochi semplici strumenti possono tirarci fuori dai problemi. Ora noi siamo pronti per partire, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!